Come impostare una combinazione nella chiusura classica o in quella TSA? Acquistate un trolley o una valigia. L'apertura del lucchetto a combinazione TSA è impostata di serie sullo 000. L'utente quindi dovrà impostarla seguendo alcune semplici indicazioni, che possono variare a seconda del produttore, ma che corrispondono di fondo a una facile procedura. Aprite la valigia utilizzando la combinazione di serie 000 oppure, se ve l'hanno prestata, mettete la combinazione impostata esistente, ad esempio 253. Poi, con una penna o un punteruolo, premete il pulsantino d'azzeramento. Si trova vicino alle sedi del lucchetto per i tiralampo. È molto piccolo e un po' nascosto, infatti non si vede né di fronte né sul lato della chiusura. Mentre si tiene ben premuto, girate le rotelline numerate in modo da impostare la propria combinazione. A questo punto, rilasciate il pulsante d'azzeramento. Ora, tirate i pulsori fino a portarli in prossimità del lucchetto. Poi, inserite i tiralampo nelle fessure della combinazione. Si sentono due bei clas, quindi riaprisse di nuovo la combinazione, usando il tasto laterale apposito, o i tasti se sono due. In questo modo, la combinazione è impostata. Comunque, ogni singolo produttore allega al bagaglio dotato di chiusura TSA una guida per l'impostazione. Valigieria Ambrosetti, vi augura buon viaggio! Grazie a tutti!